Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del let's play di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Oggi siamo ritornati al grande altopiano Gerudo L'obiettivo di oggi è fare un po' di quest di Liga, fare degli Inox e pure degli Inel se li troviamo Ma innanzitutto partiamo con questo semino a forma di rombo E poi andiamo avanti Qui ci dovrebbe essere là sotto, no c'è sicuramente perché l'abbiamo controllato prima C'è un Inox nero Mettiamo il semino Tra l'altro ragazzi sono veramente contento Delle, quindi quattro episodi delle isole del cielo Abbiamo praticamente completato tutto Ci manca solamente un Griok Un re Griok Ciao semino E poi ci mancano le isole del tuo L'inox sta là Però questo qua è un sassaroc di ghiaccio Allora Vediamo un secondo come si fa il sassaroc di ghiaccio Innanzitutto si fa con la freccia No, 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 ci vuole una cosa di ghiaccio Di fuoco Ma questo come lo dobbiamo fare? Ma è impossibile Ragazzi quando lo prendiamo col fuoco Ogni volta che lo prendiamo col fuoco Anche il braccio Si dovrebbe stannare sempre Vedete? Questo è il punto debole Il fuoco di questo Il braccio Se Link riesce a scendere qua Facciamo colpo caricato Ok Eh no, l'arco, Link Abbraccio Ok Questa volta non lo facciamo colpo caricato Perché secondo me Non è tanto buono Però ci dobbiamo mettere con la parte più Oh questo è pure raro ragazzi Perché vedete che Ma secondo me come lo facciamo Che non è più ghiacciato il fatto? Facciamo così Andiamo sopra Merci Questo forse si ghiaccia adesso Vediamo se cade Più meno Torino ma un criticozzo? Non lo facciamo Ah adesso guardate si ghiaccia tutto Aspetta facciamo così Ah no adesso si stanno A parte che dovrebbe morire Non so se ce ne riusciamo a dare un altro colpo Perché questo è difficile cadere qua sopra Ok Pietra focaia Vediamo che ci dà il glasciarock Questo è raro Ci potrebbe dare anche un diamante Un diamante per sempre? Ma come dobbiamo si eliminare i rari Non c'è neanche il diamante E poi guardate Questo quadro ha solamente opali Che strano Vabbè Ehm Come si fa? Ci serve un'arma Però questo pezzo qua Dovrebbe congelare credo Ah Ci abbiamo anche un'arma congelante Ehm Prendiamo questo Solo che adesso Per andare dal Bisogna risalire Oh qua ci sono altri opali Aspetta No li controlliamo Facciamo così No Mica perché Qua ci sono i frutti Che è successo? Vedete Tulin ci ha spostato qualcosa Mannaggia Tulin Risaliamo così va Ok Qua ci dovrebbe essere Linux Il problema è che qua Sulla 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 neve Sulla neve Ragazzi dobbiamo fare pure Quei pipistrelli Ok diamolo così Bardatura A sinistra A sinistra A sinistra Ma lo stiamo dando? Forse perché ancora Non l'abbiamo ingaggiato Ok andiamo Adesso dovrebbe uscire la vita Però l'abbiamo dato Sicuramente Non l'abbiamo preso Adesso si Tulin Ma un critico Che tu Hai sempre fastidio Diamolo diamolo Lampone La borsa delle armi È piena Per forza Adesso non mi ricordo Che cosa ci serviva Esattamente Però qua ci abbiamo Un miliardo di Dopo andiamo Dalla farda Radiosa E vediamo Questa la buttiamo Quest'altra lancia Pure la buttiamo Ok Questo invece È un arco Archi come siamo messi Questo sta per rompersi Buttiamolo Ok Poi No aspetta però Eh no Stava per rompersi Vediamo uno scudo Ce abbiamo un altro scudo Con un razzo Perché dobbiamo fare i pipistrelli Adesso non so Quanto ci fa andare lontano Però Fra razzo E Tulin Dove sta? Facciamo così Uno Facciamo così E due Dove sta? Ma ho l'impressione Che ne abbiamo fatti Di più di pipistrelli Però eh Ok Siamo Finito? Ok Andiamo qua sopra Qua Eccola Ci dovrebbe essere Gomada Allora Vediamo un secondo Dove dobbiamo andare là? Ti tengo io Questo qui adesso è sinistra È fissato Ok Vediamo che cosa ci abbiamo Ci abbiamo un sempre in piedi Più questo Portiamoli qua Questo dovrebbe essere Abbastanza semplice Perché è fissato già In due direzioni Grazie comunque Il sempre in piedi Secondo me è buono A proposito Ci serve anche Ce l'abbiamo l'arancio Proviamo con questa Poi vediamo Dobbiamo farci Un dispositivo bellico Mò teniamo pure Un sacco di batteria Il dispositivo bellico Che abbiamo fatto in live Era molto divertente Ci abbiamo fatto anche Qualche tutorial Con quel dispositivo Solo che C'avevamo un sacco di problemi Soprattutto con il cannone Perché il cannone Si sparava con Il dispositivo E c'è tratta Ci sparava pure a noi Che non era Una cosa buona Quindi E poi c'aveva Un altro problema C'aveva il problema Che i mostri Quelli là grossi Lo facevano cadere E non si rimetteva Più in piedi Invece Col sempre in piedi Anzi Sapete che vi dico Oggi lo facciamo Sono quasi certo Che ci dai comanda Una rupia rossa Ok Poi Vedete questo Difesa dal freddo Livello 1 Questo non è tanto buono Perché Se stiamo come qui Che ci vogliono due pezzi La pozione Ci dà solamente Una protezione Ci serve comunque Un altro pezzo Per completare La protezione Credo Chi è Alla sempre in piedi Ok ragazzi Adesso Andiamo da quella parte Là ci stanno anche Un po' di semini Però non li prendiamo Perché Non li prendiamo Tutti quanti i semini Poi tra l'altro Per salire da là Fino a qua sopra A piedi Non finiamo più Però qua ci sta Un altro semini Non prendiamo Quella che sta qua Vai Tony Dobbiamo solamente Ricordarci Eccolo qua E qui ci sta Una parte Molto Estremamente divertente Ciao semino Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare esattamente Da quella parte Ragazzi Questo qui Iniziano le quest Liga E Tra qua Non ci sta Invece niente Andiamo a vedere Spalduncello Non lo prendiamo Là c'è un tizio E c'è Ah c'è il sacramento Da quell'altra parte Ragazzi L'avevamo pure segnato Eccolo qua Ma qua sotto Noi non ci siamo mai andati E manco qua Ci siamo mai andati Dopo facciamo una cosa Dopo scendiamo giù Vediamo che c'è Perché sicuramente C'è qualcosa di Liga Qua sotto Sopra il clan Sotto risurrà qualcosa di Liga No? Ah Tony Ho sentito dire Che qui si impara La tecnica pazzesca Della geomanipolazione Sparisce Solo i membri del clan Niga Hanno il permesso di entrare Ma io volevo imparare Una tecnica pazzesca Per farmi notare da tutti Questo clan Agisce in segreto Siamo un gruppo di individui Che serve il maestro Koga Non ci importa Quello che hai fatto in passato Ci servono solo fedeltà Forza e abilità Nel raccogliere informazioni Visita i nostri tre appostamenti Raccogli i mezzi Della tenuta del clan E ti accoglieremo come nostro pari E a quel punto Forse ti insegneremo Le nostre tecniche E' tutto Tutto qua E come faccio a trovare i tre appostamenti O la tenuta del clan Non scherziamo Mamma mi diceva Piccolo Aton Tu saprai superare la prova al primo colpo Per questo sono venuto qui E invece Non sono non superato la prova Ma non sono nemmeno riuscito a superare la porta di ingresso Però se mi unisco al clan Niga Imparerò una nuova tecnica pazzesca Se la sapessi padroneggiare Diventerai ripopolarissimo No? Aton Puoi entrare nel clan Niga anche tu? Sai che non ti accettano se non trovi tre appostamenti E devi anche raccogliere tutti i pezzi della tenuta del clan Sembra una di quelle pericolose prove di iniziazione Per cui si rischia la pelle Io lascerai perdere se fossi in te Forse lo convinco a rinunciare C'è già troppa concorrenza per quel che mi riguarda Ora che ci penso Oggi la voce che il clan Niga Abbia occupato il laboratorio di non so cosa da cala Sarà vero Il laboratorio Il centro di ricerca Di accala Ok Questo Infiltrazione nel cubo di Niga Questo qui era un indizio che ci dava il gioco Per dire vai ad accala Attimo che ti prendi un pezzo di armatura E là trovi la mappa E ti trovi Prende gli altri tu Uuuu Dobbiamo combattere Ci hanno riconosciuto Veramente Abbiamo cantato la quest Ok Quanti ne sono? Vieni qua Vedrà quanti sono Squadra di vigilanza Niga Sono tre Però ci sta pure quello grosso ragazzi Bravo Sidon Ci ha preso Ok Ci hanno dato due banane lame e due rupee Ah ci hanno anche le loro armi in realtà Però a me Non è che piacciono tanto le armi di Niga Comunque Ragazzi Per poter entrare Bisogna avere Come ha detto il tizio Togliamo un po' di questo cibo Con l'ame cotto Ci vuole Bisogna indossare il set di Niga Così non ci riconoscono Però dove sta il set di Niga? L'abbiamo visto il set di Niga Eccolo qua Questa è la mia freccia che ho sbagliato per colpa di Tulin Sono io Fammi entrare C'è il link qui fuori Va bene Puoi entrare Tra l'altro Non si vedono pure i capelli Ok ragazzi Ci vogliono fare tutti quanti la sola Assolutamente Non fateveva fare la sola A giudicare dagli abiti nuovi Immagino sia tu di nuovo aspirante membro del clan Hai già visitato tre postamenti in così poco tempo Ottimo lavoro Per ora non dirò altro Questo como Il fulcro dell'espansione sotterranea del clan Niga Qui sviluppiamo veicoli costruiti con pezzi speciali Addestriamo i membri E altro ancora La spiegazione finisce qui Per tutto il resto Tieni gli occhi aperti E capirai da solo Questo già l'ha detto Non ne ho avuto ancora abbastanza di spiegazioni Fuori dai piedi Va bene Ok vediamo un secondo Questo qua vende un miliardo di banana lame A 20 dollari a prezzo Non le prendiamo ragazzi Perché le banana lame Poi faccio le dole Le dobbiamo prendere Qua non ci sa niente La si va nel covo Qua c'è questo tappito a razzo Questo qua ragazzi Vedete sotto che Si vede qualche cosa Se lo date fuoco Così Ok Riusciamo ad accedere Alla cosa qua Alla cesta Togliamo di mezzo Ok Poi che cosa c'è più Allora qui si serve Per qualche quest C'è un arco a doppio tiro Con 88 rupie Questa è pure abbastanza buona Solo doppio tiro Questa vende le frecce di legno Per 10 E queste qua sono buone Perché quelle per 5 Mi sembra che le fanno 20 rupie E poi ne tiene pure per 4 4 140 rupie Però sono 40 frecce È buono Qua ci sta questo tizio Che vende Vende Non riesco a sopportare L'ansia che mi trasmettano Questi Mi trasmettono Questi spuntoni Ehi fessacchiotto Non è educato Fessare la gente Lo sai Ti interessano Questi spuntoni No 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 Aspetta Vediamo un attimo A quanto C'è lì che compra Questi diamanti Sempre a 500 No Questi ci fanno Alla sola Ragazzi Questi vuole un miliardo Di dollari Per quelli E poi qua Possiamo comprare Le armi degli Iga Però Non le compriamo Ok Andiamo avanti Qua non c'è niente Qua non c'è niente Qua c'è un'altra sola Ragazzi Vedete Quella Questo scrigno Quella banana Adesso Lo prendiamo Così Riproponiamo L'altra volta La tecnica Per scavare Le rocce Però Questi qua Sono proprio Cattivissimi Parliamo pure Con questo Ora devo solo Montare questa ruota E fissarla in modo Che non si stacchi Non riesco a concentrarmi Se mi fissi così da vicino Sono molto impegnato Con le riparazioni Di questo veicolo armato Che la squadra del sottosuro Ha fracassato Che c'è di interesse Il meraviglioso veicolo armato Che ho fatto con le mie mani L'ho chiamato Spunto mobile Guardate come si guarda intorno Con aria circospetta Beh Se proprio ti piace Potrei vendertene Una nuova di zecca Per 999 rupie Ma se si viene a sapere Che l'ho venduto Al primo membro Del clan che passava Non ci faccio Una bella figura Possiamo fare lo scambio Qua fuori Lasciamo stare La prossima volta Che mi disturbi Con le tue chiacchiere inutili Ti trasformo in un bullone Per il mio vecchio armato Per il mio veicolo armato Ok Andiamo avanti Adesso Vedete Questa parte qua Qui c'è un altro Che ci vuole Provare a far vedere La roba Però Qua c'è questa roccia Voglio far vedere Poi un'altra cosa Però Non mi ricordo dove stava Stava da qua Vedete che qui c'è Un'altra roccia Non la rompete Forse bisognebbe Abbassare un attimo L'audio Ci serve Un paletto E un cannone Un paletto E un cannone Ci abbiamo un cannone Eccolo qua Ok Mettiamo Il paletto E il cannone E scappiamo 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 Ok Cioè ma Voi non avete idea Di quanto è grande Questa Questa grotta Dopo Prendiamo Tutti i pezzi Qui ci sono Chilometri di rocce E ci siamo pure Dati La cannonata In faccia Oh ragazzi Ma quazzo Oggi È proprio La giornata Delle nubate No vi faccio vedere Poi un'altra cosa Ah no Ce l'ha fatta Dobbiamo fermare Il cannone Qua Ok Sono finiti le batterie Ce l'abbiamo fatto Giusto Giusto Mangiamo Un altro Po di schifezza Che ci abbiamo Questo Questo Oh Giusto 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 In realtà Pure tutto La montare Di slot Per il cibo Per il cibo È limitato Ragazzi Tutte le schifezze Che ci dà la comanda Alla fine Ce lo riempiono E questa è un'altra schifezza Che non ci serve 219 frecce Eh Basta comprare un po' di frecce E si risolve tutto Questo qui dietro Vi ricordate quella roccia Che ho fatto vedere prima Se la distruggete Vi trovate quest'altro Cosa che non si rompe E non serve a niente Distruggerla Ok Tutte queste rocce Sono un salgemma Andiamo avanti Oh qua c'è anche Una cloche Continuiamo ad andare avanti Questa è la fabbrica Come si chiama questo posto Comodo di Liga Andiamo prima Per sopra Ok Ah qua non c'è niente Banalame Registro di sviluppo Vuoi leggere Il registro di sviluppo Dell'elmo scacciatuono Che questo è quello Che prenderemo adesso L'elmo del tuono È una reliquia Capace di respingere i fulmini Che la tribù Gerudo Si tramanda di generazione In generazione Siamo riusciti a impossessarcene Ma nel giro di pochissimo tempo Ci è stato portato via La matriarca Sembrava giovane Che non offensiva Abbiamo sbagliato Ad abbassare la guardia Ora sappiamo Che non possiamo sottovalutare Ma che è la Ricci Nonostante l'elmo del tuono Ci sia stato nuovamente Sottratto Eravamo già riusciti A completare la nostra analisi Come è prevedibile Essendo un tesoro sacro È stato arduo Trovare i materiali E le gemme In grado di resistere I fulmini La conclusione A cui siamo giunti È che si tratta Di un oggetto Molto complesso Fabbricato Con tecniche avanzate I nostri sforzi Per replicarle Si sono rivelati vani I fulmini Mi hanno colpito In numeri voli volte E ogni volta Mi sono ritrovato A lottare tra vita e la morte Quando pensavo Di aver raggiunto Il limite Delle mie capacità fisiche Ho ricevuto Un'informazione Tecnologica fondamentale Ve ne ha parlato Una spia travestita Da viandante Una spia travestita Da viandante A quanto pare È entrato in possesso Di tale informazione A sua volta Da un aspirante stilista Incontrato per strada Sulla base Dei dati ottenuti Abbiamo quindi provato A riassemblare L'elmo E per la prima volta Ha respinto i fulmini Abbiamo dunque Decidato Di chiamarlo Elmo scacciatuono Ho sentito che L'elmo del tuono Il tesoro sacro Delle Gerudo Può essere utilizzato Solo da pochi eletti L'elmo scacciatuono È altrettanto selettivo Tecnologie a parte È fondamentale Anche la sintonia Con chi lo indossa Ma non sono in molti A poterlo utilizzare Con costanza Ecco perché Volevo addestrare qualcuno A indossare L'elmo scacciatuono Io non potevo Per via della successibilità Del mio corpo ai fulmini Però purtroppo Non ho tempo Di trovare un successore Ho potuto creare Solo un esemplare Ma lascio qui Questo registro Con la speranza Che qualcuno non lo trovi Forse un giorno Un altro membro Del clan Niga Potrà usare L'elmo scacciatuono E sbarazzassi Della famiglia reale Di Rule Ragazzi L'elmo scacciatuono È buono È molto buono È estremamente buono Ok Scendiamo giù Non è estremamente buono Però è utile È molto utile Dai Non esageriamo qua Questo qui Diamo fuoco Questo Non mi ricordo Quale bisogna Dare fuoco Forse questo Sì 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 Ok Qui dietro C'è un altro scrigno Ci sono un'altra Cocadame Ma forse c'è Superattacco 8 Non lo prendiamo Andiamo avanti Qui c'è una trappola Quanto sono bravi Eh Link Dai Perfetto Oh ragazzi Parliamo con questo Questo è proprio divertente Ma sei Link Ho forse Ho forse solo i suoi stessi capelli Che tristezza Tutti i membri del crannica Dovrebbero avere i capelli neri Come la pece Non lascerò passare Un tipo come te Non conciato in quel modo A quelli come te Bisogna dare una bella lezione L'aria di addestramento È in cima con la torre Sì Sali fin lassù E vedrai come ti daranno Una bella lezione Partecipa all'addestramento Almeno una volta E ti lascerò passare da qui Sempre che tu riesca A uscire da lì Tutto intatto Ok Ma se usiamo Ascensus Qua te ne accorgo Che usiamo Link Vediamo Secondo me non se ne accorgono Ok Lascia il soggetto doppio Abbasso Link E questo credo che È nel nuovo scacciatuono Vediamo un secondo Sì Però non ce lo fa Vedere per adesso Quindi se uno è arrivato È qui che ci addestriamo L'assenza di Zelda Sarebbe l'occasione perfetta Per infliggere a quelli Rimasti una sconfitta schiacciante Il problema È col suo cavaliere Link È un tipetto tenace E abbiamo avuto conferma Che è ancora in circolazione È frustrante Dovelo ammettere Ma quel tipo è formidabile Se non miglioriamo A livello individuale Non lo sconfiggeremo Dovresti partecipare Agli addestramenti Se ci dimostri Di avere le doti adatte Questo elmo Schiacciatuono Sarà tuo Si tratta di un elmo prezioso Chi lo indossa Non viene scalfito Dagli attacchi elettrici Trattandosi di un potentissimo Pezzo di armatura Solo chi è addestrato È degno di poterlo indossare L'addestramento consiste In una lotta continua Contro i membri del clan In un limite di tempo prestabilito Il primo che ti viene assegnato Cambia a seconda Il numero di avversari sconfitti Dunque Se dobbiamo valutare la tua forza Che dici di cominciare Cercando di sconfiggere Tre avversari Entro un minuto Direi che una cento rupee È la tariffa da pagare Per addestrarsi Ma visto che sei un nuovo Arrivato Per questa volta non paghi Però se accetti la sfida Non potrai tirarti indietro Finché non sarà finita Ok Cominciamo Tutti pronti a combattere Allora ragazzi Questi dobbiamo prendere come escono Credo che questi ci vogliono 87 colpi Per far prima con questo Mettiamoci in uno spazio stretto Così Eccolo qua Ci ho preso Ok L'avevamo detto Questo esce da qua Con quest'arma è meglio Due colpi Invece di cinque Portatemi un'arma meglio Purtroppo Non possiamo utilizzare Il set della furia divina Perché giustamente Poi ci sgamano Sei ancora in piedi Davvero notevole Ha sconfitto tre avversari Come ti era stato detto Beh Non male per un nuovo arrivato Prendi questo A testimonianza del tuo valore Tessuto Iga Un robusto tessuto Regolato con un disegno Iga Potrebbe essere usato Per costruire una paravela Ok Di questo passo La prossima volta Potrai riuscire ad affrontare Sei avversari Se vuoi partecipare A un'altra sessione Parla con me E non di vendicarti Delle 100 rupie Ragazzi Cambiamo arma Questa qua Secondo me la spada è meglio Ce l'abbiamo Dobbiamo fare Un po' di porzioni Per la forza Ragazzi Più partecipi all'addestramento Più ti rinforzerà Dovresti continuare Anche se hai già partecipato Tante volte La Gio manipolazione È la nostra tecnica segreta Riuscire a poter Miggiarla Ti qualifica Come vero membro del clan Non sarà idoneo Impararla Finchè non riuscirai A sconfiggere Sei avversari Che ne dici Vuoi tentare? Ok Hai già con te Le 100 rupie Certo Ok Vai Cominciamo Tutti pronti a combattere Siamo negli spazi stretti E cerchiamo di colpire Quando escono i costi rossi Dove stanno Gli spazi Eccolo qua Qua ce ne sta uno Qua ce ne sta un altro Due No come stiamo per rompersi? Ce ne sta un altro Però questo non è uno spazio stretto Stiamoci qua Ok Fermi un attimo Prendiamo un'altra arma A quando siamo? Cinque Ok Mamma mia Ragazzi Stiamo triste Un attimo È completato Anche questa prova Sempre più impressionante Stai di volermi aspettare molto da te Superbo Ora sei idoneo A prendere la nostra Tecnica segreta Ascosta i nostri insegnamenti Con mente attenta E cuore pronto a tutto Manuale di genopera Manipolazione Questa qui è veramente L'arma che utilizzava il tizio Solo che Non fa male Quando faceva male L'arma del tizio Un manuale esoterico Che sverri il segreto È la tecnica di manipolazione Nessuno Esclusiva dei pezzi grossi Di liga Usale per eseguire Un colpo caricato Senza armi Però forse si deve caricare Forse più si carica E più Fa male Ti vedo perfettamente In grado di affrontare Nove avversari Nessuno qui È mai riuscito In un'impresa del genere Se vuoi partecipare A un'altra sessione Parla con me Ok Questa è l'ultima Trattandosi di un Positissimo pezzo Di armatura Nel mio scacciatuono Solo chi è addestrato Dovete Ok Nove avversari Perfetto Vai Centro pie Cominciamo subito Ok Cominciamo Tutti pronti a combattere Ma teoricamente Prima questo rosso Non è uscito Perciò mi sono Un attimo Dovrebbe uscire Quasi sempre Quello rosso là 3 2 Un solo colpo Dove stanno Tutto qua Wow Questi arrivano A due alla volta Questa Questa qua No 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 Fermo Quello sta là No Ce l'abbiamo fatta Nuovo record Questo è un passo Buonissimo Per farlo Pure perché Se mi mettete in un ambiente aperto Quindi vi frecciono Molta gente Si è cimentata Con questo addestramento Ma tu sei il primo In assoluto Ad aver sconfitto Nove avversari Oh Sai tutto questo talento Forse sei già pronto Per affrontare Lo spadaccino Link Hai molto più talento Di quando mi aspettassi E per questo Meriti di ricevere Il nostro prezioso tesoro Ilmo Ilmo scacciatuono Un ilmo costruito A liga Modellato su un tesoro Sacro del popolo Gerudo E addornato di topazzi Che gli consentono Di respingere i fulmini Distruggere Link E servire il maestro Koga Hanno la massima priorità Grazie Tra le altre cose Mo lo indossiamo pure Si è preso l'ilmo Non pensavo che un giorno Sei stato faccia a faccia Con qualcuno Che indossa quell'ilmo Inoltre Al momento Non abbiamo premi enormi De offire Ma non ti manca la tenacia Per diventare Degno del maestro Koga Degno del maestro Koga Mi piace Per la tua ambizione Di superare il tuo stesso record Sei sentato alle spese Per l'addestramento Veramente Ma se accetti la sfida Ok no no Basta Basta Ok Vediamo questo Che ci dice adesso Quell'ilmo Non mi capacino Di come tu Sei ancora vivo Comunque Fin quando sei qui Per lavorare Mi sta bene Siamo a corto di forza Lavoro al momento Vedete E' sorpreso Che c'è nel modo Scacciatuono Tra altre cose Se andiamo dal maestro All'inizio Andiamoci un secondo Come facciamo Andare dal maestro All'inizio Dobbiamo andare da qua dietro Dobbiamo fare tutta la fabbrica Andiamoci Così vediamo Pure se Per caso Hanno fatto di rispondere Le frecce Perché quelle Sono buone 40 frecce Per la Quando le abbiamo pagate 130 rupie Unica cosa Che la fabbrica qua È un po' troppo lunga Andiamo di qua E non c'è modo di No Non credo che ci sia modo Di accruciare Il viaggio Ha fatto il restock No Forse deve passare Più tempo Oh L'elmo Scacciatuono A giudicare dai vestiti nuovi Sei tu il novellino Con il nostro Arcinemico Link Che va in giro A tramare Contro di noi Sei già fortunato A essere ancora in vita Ma per quanto sia furbo Non riuscirà mai A infiltrarsi in questo cuomo Tu Aiutami a studiare i veicoli E ad estrare gli altri membri Ritorniamo Parin Dobbiamo fare pure il sacrario Andiamo per di qua Abbiamo sbagliato strada Perché dobbiamo scendere giù No ragazzi Questo cuomo È gigantesco Andiamo per di qua Andiamo a destra Siamo quasi arrivati però Ma dobbiamo andare pure giù Dentro al crepaccio No Questo che stanno facendo Questo hanno finito Le banane a lame Questo sto facendo Tipo l'inventario Questo Parliamo con il capo Se il nuovo è arrivato Di cui parlano tutti Hai fama di essere meritevoli Di indossare Nel moscaccia tuono Nessuno aveva mai avuto Un tale onore prima Sfrutto il potere Che ti infonde A beneficio del maestro Koga Ok ragazzi Qui invece Dovremmo aprire La scorciatoia Per arrivare al sacrario E poi lo facciamo pure il sacrario Semini qua Vediamo un attimo Passando passando Togliamo pure la stellina Ok Sacrario di Rotsumuma Grazie Sidon E' incredibile Che si mettono avanti Questo è impossibile Che abbia le inizioni di Raul E' altamente improbabile E' altamente improbabile E' infatti non avrebbe le inizioni di Raul Una reazione sbilanciata Sacrario di Rotsumuma Dobbiamo sbilanciare qualche cosa Dobbiamo fermare questo qui Così In maniera tale che andiamo qua Non sono sicuro che era così Ok Questo qua è più difficile invece Perché Perché là ci sono un sacco di blocchi Ok Se facciamo così E' prolunghiamo questo E lo mettiamo circa qua E prendiamo questo qua E lo mettiamo qua sopra Dovrebbe funzionare No? Si abbassa Ok Quindi è il momento in cui Lo stacchiamo Andiamo verso l'alto E riusciamo a prendere Quello Mamma mia Giusto giusto Ci dovevo mettere Un po' più Verso la fine della pedana Zonanio grande Oh ragazzi Io ho fatto il conto Per poter potenziare L'armatura di Zonanio Ci vogliono 45 Zonanio grande Ah A meno che non ho sbagliato qualcosa Però Ce ne vogliono tantissimi Quindi adesso Non lo possiamo più utilizzare 45 Sono proprio un sacco Ok Facciamoli scendere questo Mettiamo ancora più così Ma scusa Adesso riusciamo a salire Direttamente qua No? Continuiamo se abbiamo preso Tutti i sacrari E gli scrigni Dopo che Dobbiamo fare Ancora un altro Sacrario Credo Sì sì Due Un altro Dobbiamo fare sicuramente Eh Chissà se Ce la dobbiamo fare Per forza Ragazzi Andiamo oltranza Tanto oramai Ci abbiamo preso L'abitudine Eh Ci sono troppe cose Da fare ragazzi Proprio un sacco Poi Quando finiremo Il let's play Metteremo Il tempo di gioco E mi spaventerò Da solo Però La cosa incredibile Baratro del comodo In liga E che sono tutte Ore di gioco Divertenti per me Però Naturalmente Dipende sempre Dai gusti Pong Il gioco Assolutamente Divertente Allora Qua La radice Dovebbe essere Proprio immediatamente Sotto Perché il sacrario Stava proprio Il fianco Quindi non ci Consumiamo Manco il seme Luminoso Radice Di Rotsumuma Scritto al contrario Questo ci ha fatto Scoprire Un sacco Di 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 Macca Però La quattro Non ci dovrebbe essere Ragazzi Teniamoci La cosa Liga Dove Non ci dovrebbe essere Qualcosa Liga Possibile Non c'è niente Dove sta il cubo Ah no Aspetta Il cubo sta qua Mettiamoci un segnalibro Ok forse è stata Quella parte Perciò Qua ci sono Un sacco Aspetta 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 Ferma Tipicamente Nei Covid Liga Ci sono Un sacco Di Di Materiali Per la costruzione Di quello Che dobbiamo Costruire Però qua Non vedo niente Qua è esattamente Dove si trova La fabbrica Nemmeno Montagnelle Ci sono Quello lì È un Cosa Con i Mostri Allora Una cosa Che potremmo Fare Potremmo Arrivare Fino Alla Ci arriviamo Ci arriviamo Questo qua Lo dobbiamo Ricostruire Però Ci dobbiamo Cambiare Un secondo Che peccato Noi pensavo Che ci fosse Qualcosa Di liga Qua Là sotto C'è pure Un cerchio E lì Ci potrebbe Essere Qualcosa Scusa Ma Questa radice Già L'abbiamo Presa Facciamolo Quel gole Max Vabbè Abbiamo Sbagliato Perché Quello Già L'abbiamo Preso Però il golemax È sempre buono Ci abbiamo un'arma Facciamolo con questo Semplicemente perché Ci abbiamo un sacco di armi A due mani A una mano Ci abbiamo poco Sette La furia divina Speriamo che lo sciogliamo Subito Questo non mi sembra Un golemax Troppo potente Ci hai visto Ci hai visto Sotto l'ho preso al volo Vediamo Secondo me con un giro La dove riusciamo a fare Va 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 Sì Sì Dun Che ti è successo Un giro e un poco Dai Tu lì Ma tu ti devi colpire Da quell'altra parte No Devo sta Ok Questo qui ci serve pure Dai Ci è andata bene Questo qui è stata Una buona cosa Non ci abbiamo Eccolo qua Ci abbiamo un'altra arma 52 Perfetto ragazzi Questo qua Lo possiamo togliere L'unica cosa Vediamo se c'è una montagnella Proprio Qui nelle vicine Là c'è una miniera però Non la facciamo La facciamo un'altra Oltre a minire Adesso Dobbiamo andare Esattamente Qui Perché facciamo la seconda parte Della quest E tra l'altro Si deve pure combattere Abbiamo sbagliato Abbiamo decisamente Sbagliato Perché Dovevamo trovare Qualche E me Ci voleva una fabbrica Iga Io ci contavo Che ci stesse In una fabbrica Iga Alla sotto Attenzione No Questo è il drago Di fulmine Che ci serve Dal drago Di fulmine Ce lo prendiamo L'artiglio Fermo 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 Vediamo Un secondo Mettiamo In ordine Per tipo Ci dobbiamo Anche cambiare Dove sta La roba Dei draghi La roba Dei draghi Ci abbiamo Il corno Ci abbiamo Tutti i coni Che ci servono E gli artigli Questi qua Sono Le rocce Draconiche Scusa Ma gli artigli Dove stanno Di oltra E di neldra Ci serve Ah ci serve Proprio l'artiglio Di questo E poi abbiamo Aspetta 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 Mettiamo Le moschiaccio Fulmini Che ci voleva E poi Qualcosa per il freddo Ragazzi Lo sapete Che possiamo Fare La quest Delle statue Adesso Lo facciamo Nella prossima puntata Oppure La possiamo fare Vediamo Quando ci manca Ah La possiamo fare Pure adesso In realtà Perché sono Facilmente Si raggiungono Proprio Facili Ok Però Dobbiamo Prendere L'artiglio Tipo Potremmo Assolutamente Cannarlo Qua sotto Se cade Non fa niente Togliamo Tooling C'è Provato Tooling Un'altra volta A farcelo Volare via E abbiamo anche Il moscacciatuono Teoricamente Questa roba Non ci dovrebbe fare Assolutamente nulla E qua Artiglio Artiglio di Fidoro Ah Firodra Ci vediamo Bello Vogliamo prendere Anche qualche roccia Se la troviamo Ecco la Una Per la strada Due Tanto Questi quali Possiamo Quattro Cinque Questi Possiamo Prendere Quando vogliamo Noi Infatti Sono Assolutamente Consiglio Di techizzato Se dovete Fare il drago Dall'inizio Del gioco Ragazzi Pure se vi Piliate Un po' Di Di danno Se vedete Il drago Dategli La massima Priorità Questa E' una Delle cose Da sapere Però Veramente Riprendiamo Tulin Dicevo Come mai Non ci stava Tulin Oh ma Qua fa freddo Però Ma là c'è Un sacrario Già l'abbiamo Fatto Ok Forse Facciamo Prima No vabbè La cascata Sta là Andiamo a fare Un secondo Sassorocco Andiamo a fare Un secondo Sassorocco Sì sì Perché Così Facciamo Prendiamo Vediamo Se ci dà Poi il diamante E poi Siamo Prendi Gli armi Quindi Questo proprio Qua sopra Questo sarebbe Un crimine Non fare Lo sassorocco Ci sono Anche Mi sembra Due fiori bomba Facili da prendere Qua Vitrofrutto Uno sta qua Un fiore bomba Facili da prendere Perché adesso Mi sono ricordato L'altro sta Da quell'altra parte Andiamo un attimo Oh non ci abbiamo più roba Per Prendiamo questa lancia Non c'è una pietra Fiori bomba Diamo Così Così Lo possiamo dare Vieni Lumiserite Lumiserite serve per potenziare i pezzi del set di Lumiserra Che sono quelli che abbiamo preso al villaggio Calbarico Là non ce ne stanno Ci sta Un'altra sta là Però Questo è un casino Prendere Ce ne sta pure un'altra da quell'altra parte Però quell'altra è ancora più difficile da prendere Ragazzi Tanto poi dopo Oppure ce lo dobbiamo cambiare un'altra volta Che ci dobbiamo mettere I set di Liga Dove sta Oh man Siamo un c'è di male Ok Vado Quando lo facciamo male Poi col diamante Sasrock Un diamante per sempre Eccolo là Diamante per sempre Ricopriamo anche la freccia che abbiamo sbagliato Ragazzi Esperimento scientifico Esperimento scientifico Attenzione Ferma La luna rossa La luna rossa Andiamo andiamo Mettiamoci Da quell'altra parte della caverna Ma dai Anche in questa puntata Forse vendiamo qualcosa di incredibilmente Inusuale E scopriamo un'altra cosa Quindi questo significa che Adesso anche le armi che stavano nel sottosuolo Si dovrebbero essere rifatte Brava Zelda Quando è bagliore Certe volte ci fa un attimo arrabbiare Un pochettino Ciao Sasrock Quanto tempo Smolla un altro bel diamante Stavolta però Non canniamo dove ci dobbiamo mettere Sasrock Abbiamo cannato Due Due Si è vendicato ragazzi Si è vendicato Tu l'inmanola devi prendere la Ok Vieni qua Poi ci ha dato una mazzata incredibile Quest'altro Abbiamo anche sbagliato l'arma Vediamo se ce la facciamo lo stesso a farlo Secondo me non ce la facciamo Per un colpo Ragazzi questo l'abbiamo cannato completamente E qua Qua è bello un altro diamante per sempre Però ce l'ha fatto male ragazzi Un po' così è vendicato L'ho visto abbastanza arrabbiato Un altro diamante Due diamanti sono per sempre Due diamanti Ragazzi questo ci ha dato 1500 rupi A mano a mano Più Abbiamo potenziato pure le armi Beh l'ho detto E' stata una genialata Pensare di venire qua Ok Cominciamo questa roba di comanda Così facciamo un po' di spazio Poi questo per il freddo Poi questo per il freddo Ok Grande sasso rock Poi andiamo da ramella Allora Quella nocerto la purtroppo C'è sfuggita Prendiamola questa Ma questa nocerto che non ci abbiamo ragazzi Nocerto la vivax Ok Oh là ci sono i pipistrelli che stanno arrivando Di notte si trovano i pipistrelli tipicamente Di trofrutto non conviene fare il salto Ne mancano i pipistrelli Perché pure li facciamo qua La roba la buttano giù al fiume O forse no Qua se li facciamo ci li pigliamo in faccia Quindi meglio no Ragazzi vedete questo Tutto questo pezzo qui Tutto questo qui Pezzo qui Se lo seguiamo Arriviamo circa Da questa parte E' una strada lunghissima Ok Dobbiamo Ritraversirci Vogliamo provare con l'elmo Oprimiamo con l'elmo Ma forse ci portano rispetto Vedete questo qui E' un cuovo segreto Degli Iga Sede clan Iga E va bene Entra Apri Centro pezzi grossi Degli Iga Non ci offre nessuno? Questo è il centro pezzi grossi Degli Iga Dove si tiene l'esame Per diventare un pezzo grosso Degli Iga Già il fatto che tu sia arrivato In una regione tanto remota Dimostra che è la stoffa Per diventarlo Ma sappi Che la prova è difficilissima Allora Hai ancora voglia di affrontarla? Certo Benissimo Mi sembri preparato Dunque Lascia che ti spieghi In cosa consisterà la prova Ci sono statue di Iga Legate a clan Iga In 5 punti del canyon Gerudo Dopo andiamo a fare un altro Sassrock Ti mostrerò dove sono Hai una mappa vero? Tu offrirai indorno Delle banana lame Presso tutte E 5 le strane statue di Iga Ok? Se attraverserai questa terra Sfidando gli sbalzi termici E completerai la prova Ti nominerò pezzo grosso Usa queste banana lame Per la prova Ci dai esattamente 5 banana lame Ci potete dare un po' di più Quest'altro Se la finisci Dovrai procurarti altre da solo È una competenza basilare Che un pezzo grosso Deve possedere E ora Che la prova abbia inizio La prova per diventare Pezzo grosso Allora Usciamo un attimo Fuori E vediamo come siamo messi Qua c'è sempre la nostra fotografia Attaccata dietro alla porta Allora Innanzitutto Oh là c'è un gorò Là c'è anche un semino Vedi? Ma se andiamo Da questo gorò Travestito da Iga Vediamo che ci dice Gorò Fermati Che vista meravigliosa Buonasera In gerudico Si dice Sava sa Sav sabà Sicuro? Non è una lingua facile Da imparare Ma ce la sto mettendo tutta Il cammino per attraversare Il canyon gerudo È molto duro Ma il passaggio È mozzafiato E ne vale sicuramente la pena Gatlin Non ci vedi manco niente Ok Usiamo anche il semino Allora Adesso Credo che è arrivato il momento Che attiviamo la quest La prova per diventare il pezzo grosso Se non mi sbaglio Eccola Là c'è una rana Adesso Andiamo a A vista? Andiamo a vista Ok Banana lama Eccola qua Prendi in mano E uno Questa la Si è tolta Poi Un'altra è stata Sassoroc Andiamo alla Sassoroc Andiamo alla Sassoroc Dove sta la Sassoroc Dove sta la Sassoroc Dove stare da quella parte Eccola Eccola Però ci dobbiamo cambiare Ah non fa ne caldo ne freddo Ok Riusciamo anche così Le mani ce l'ha qua Stavolta Non sbagliamo Anzi Come mai Ci abbiamo Due cuori Stavolta Abbiamo preso Un altro livello Sì sì Nella puntata precedente Sassoroc Con gli occhiali Devante per sempre Prima ce ne andate due Anzi tre Non penso che ce ne andate ancora Potrebbe Oro anche no Ci abbiamo tre armi Di attaccare Uh c'abbiamo questa E c'era quest'ambra Che stava qua dietro Prendiamo Questa schifezza di lancia Allora quelli ci hanno andato Proprio delle lancie fredenti Questi sono due Abbiamo rotto La pietra a focaia Dove sta la rana? Ecco C'è un'altra ambra Ma sforzo un secondo È quello che andrò bene È un rotola Qualche cosa Adesso Rotola campo Mi sembra che si chiama quel coso Ok Rana Banana lama Banana lama Eccola qua Banana lame E sono due Un altro Sta qua Questo qua però sta dentro una grotta Ci arriviamo Ci arriviamo Assolutamente prima Se facciamo qua Ci teletrasportiamo E qui Possiamo utilizzare Anche però Dobbiamo farlo bene Allora Dobbiamo fare Un congegno Bellico Meluana Se n'è andata Aspetta un secondo Ma non è che qua sopra ci sta Un semino per caso È molto probabile Però non ci vena Facciamo ad arrivare Vabbè andiamo avanti Dobbiamo entrare là dentro E Non ci sta niente No Poi potrebbero uscire I pistelli Teniamoci pronti Questo buttiamo Ah però ci avevamo solamente Due archi multishot Non ci sono i pistelli Ok Allora Questa grotta A parte i click e tutto Però ci sta un sacco di roba Vediamo un attimo Se riusciamo Ci dovrebbe essere No Qua andiamo proprio Sopra tutta la montagna Sì Eh infatti Non va bene Ah no ma Già siamo in posizione Sopraelevata Andiamo un attimo In posizione un po' più Sopraelevata Allora andiamo ancora Più sopraelevati Secondo me Qua sopra c'è Lo spettro Lo facciamo dopo Ci sono i licheriche E c'è questo Pipistrellino Ok Dopo lo andiamo a prendere A quel pezzo Allora ragazzi È arrivato il momento Che tutti quanti Stavamo aspettando Secondo me Si fa così Ci vuole Questo ce lo salviamo Un po' di se funziona bene Fotocefalo Perché questo qua Emette un raggio laser Concentendone Gli attacchi ai nemici A distanza Due Poi Sempre in piedi Sicuramente abbiamo detto Che serve Poi ci vuole Una testa di golem Sicuramente Il vettore automatico L'elettrocefalo E poi ci vuole Un Criocefalo Criocefalo Ok Allora ragazzi Questo qui è È la scienza Però non so se funziona Questa è la prima volta Che lo facciamo Questo qua Lo diamo qua Così Sta sempre in piedi No? La testa di golem La mettiamo Qua Ricordatevi che la testa di golem C'ha la direzione È la direzione giusta Deve stare Il pezzo dietro Vedete Quello spara In avanti Poi Questo qui È quello lì Che dà Gli attacchi elettrici Però non Non va a distanza Questo qui È ravvicinato Quindi lo dobbiamo mettere Secondo me Davanti Così Se Se tocca a qualcuno Lo Gli fa prendere la corrente Gli dà la scarica Poi Questo qui Lo mettiamo Qua Che lo congela E la La testa di golem Ragazzi Si dovrebbe anche Spostare a destra e sinistra Quindi non vale Nella direzione Del Del pezzetto di sotto L'unica cosa che Non so Non so Non so se funziona Però la teoria Dovrebbe essere giusta Ok Mettiamocelo Sennò ci non lo dimentichiamo Nella cronologia Nei preferiti E proviamolo L'unica cosa È ci dobbiamo mettere Sette da zonario Possibono Di più le batterie Comunque Credo che Funziona sempre Ragazzi Sapete perché Perché da qua sopra Poi lì Non ci possono attaccare Aspetta un secondo C'è un problema Molto grosso Vedete questo pezzo qui Se lo mettiamo così Il ghiaccio Non funziona bene Lo dobbiamo mettere Tipo Così Perfetto Quindi Dobbiamo rifare La cronologia Ok E togliamo Questo Ragazzi Il momento Della verità Guarda Guarda Adesso Lì dovrebbe friggere Gli agghiacciati E vedete Il Come si chiama La testa di Golem Si dirige direttamente Verso il nemico Non devi aspettare Che Il tank Si gira Guarda ragazzi Questo l'ho fatto L'ho fatto fuori In un secondo Sono rimasto Assolutamente Senza parole Non me l'aspettavo Lo possiamo fare Controli lì Nel quale non funziona Perché lì Li scassano Dobbiamo cambiare Aspettare Il film E qua Però Magro il video Ho visto che No Questo è incredibile E questo è proprio buono Questo pure ci piace Ok Noi siamo venuti qua In realtà Per trovare le rane Stiamo facendo altro Qua ci sta un nike nike Più il pipistrello Lo facciamo con un solo colpo Sì e lì che lì che Questo non riusciamo a fare Purino Ma un colpo Ce lo potresti dare Adesso ma ci mancia Pure i stessi rocchini Un altro Lì che lì che ci vuoi mangiare Vero? Vabbè Oh Tipicamente I lì che lì che Lasciamo in deposito Di minerali rari Scooter veruto Ragazzi Questo qua Lo dobbiamo prendere E ce lo dobbiamo tenere Stretto 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 Fino a quando Non lo usiamo Perché Questo qua serve per una quest Ed è È rarissimo Cioè non è rarissimo Non si riesce a prendere Però Quando poi È come il drago Quando poi vi serve Non lo trovate mai Oh pure il cortufo Bianco E poi un'altra cosa importante Vedete questa scessa qui Scudoline È una scessa I lì che lì che I lì che lì che Li droppano Però perché stiamo andando Da questa parte Perché Perché qua c'è un'entrata Dall'altra parte della miniera Sì ragazzi Questa miniera C'ha due entrate Però questa qua È un'entrata Sfortunata Ve lo faccio vedere Ce la facciamo Secondo me no Ce l'abbiamo fatta Lizzafloss Non ti permettere Andiamo Tulin Pensaci tu Guardaci tu Quello Lizzafloss Dagli una lata Ma no a me A Lizzafloss Tulin È incredibile Tulin ragazzi Comunque Ma mica ci ha seguito Fino a qua Dobbiamo seguire fino a qua Se qualcuno sta un altro nemico Dobbiamo trovare lo spettro Vieni qua Se abbiamo un'arma 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 La gestione delle armi È un casino ragazzi In questo gioco Meno male che si ferma Pensate se non si fermava Quando dovete scegliere le armi Un casino Lo conserviamo Prendiamo il razzo È una delle armi Più forti del gioco Che si prende con questo scudo Questo è un deposito Di minerali rari Ah cosa è lo spettro Grazie con il dispositivo bellico Che abbiamo costruito È una potenza spaziale Ciao lo spettro Ok La rana Eccola qua Abbiamo preso anche Un sacco di roba Di pipistrello oggi Che è sempre buono Dove stanno le banana Dobbiamo Sempre per tipo Eccola qua Banana lame Dove abbiamo preso Tutte queste banana lame Non mi ricordo In generale Si trovano Più o meno In basso a destra della mappa Ce ne sono un sacco Però Non mi ricordo Dove abbiamo preso Allora facciamo una cosa Andiamo a prendere Prima questo E poi dopo Andiamo a prendere Quell'altro Dall'altra parte Non riusciamo a fare Una puntata Decente Però Eh Ragazzi Questo sta qua Caldo insopportabile Aspetta un secondo Fermo Noi ci abbiamo Solamente Solo di questo Solo un pezzo Per il caldo Qua mi sa che ci sono Un paio di semini Ragazzi Poi li prendiamo Però non stanno qua Stanno da quest'altra parte Credo Sicuramente ce ne sta uno Qua sotto Però noi dobbiamo andare Dalla rana No La no Perché Da dove siamo venuti Bisogna vedere Dove stanno le rane Non è che stanno là sotto La no Ancora più giù Forse Qua no Eccola Ma secondo me Dove sta sto Se il rane Ok Quindi in mano Grazie Ma è possibile Che ci stanno C'era un sacco Qua sotto Che non l'abbiamo visto Non dovevamo scendere giù Però E io Ah no Questo qua Sapete qual è Questo sacrario Che ci sta indicando Lasciamoci il pezzo violico Dopo ci dobbiamo andare Il sacrario Che sta Alle spalle Del pezzo grosso Per prendere Quel sacrario Là Dobbiamo completare Questo questo qua E ci manca ancora Il pezzo Che adesso andiamo a prendere Tra l'altro In questa grotta Ci siamo già venuti Se vi ricordate Che abbiamo fatto Questo sacrario Da dove stiamo uscendo Di Rakudad Poi abbiamo preso Anche tutto Che bella Quest'acqua Per qualche motivo L'acqua di questo gioco È fantastica Non lo so Forse perché La grafica È un poco strana Invece L'acqua Si distacca molto Però è proprio bella Da proprio Un senso di freschezza Poi stanno L'idrofrutti Riprendiamo Prendiamo Prendiamo tutto Non sbutta niente Allora Controliamo un attimo Se Qua non ci sono Manco proprio Entrati qua dentro Ok Facciamoci Giù da quell'altra parte Anzi Vedete che facciamo Visto che ci siamo Non lo usiamo mai Usiamo Armatura Zorra Ah Però andiamo così Andiamo così Questo non riusciamo A togliere Perché Ok Facciamo Prima Se andiamo Appeni Però là Ci sono Vedete Un deposito Di minerali Rari Lo vorrei prendere Andiamo così Andiamo così Quizza Link Quizza Da qua Non ci riusciamo A scegliere La sobra Forse Se ci riusciamo Qua sopra Tipo qua Guarda qua Non ci riusciamo Però Ci riusciamo Che barbatrucco Quelli che ne hanno lasciato Quel pezzo là Noi stiamo Ora siamo Guardate Ora siamo ancora Alla Qualcosa Zaffiro E basta Là c'è Poi un altro Scrigno Per un secondo Se facciamo così Vediamo che c'è In quello Scrigno Ha Facciamo Collega Dei scollegato Colleghiamolo così Colleghiamolo così Poi lo alziamo E lo portiamo qua Vabbè dai No Non la prendiamo Ragazzi Che se lance Non lo so Io non mi trovo Allora Noi dobbiamo salire Invece Là sopra E là E io lo sapevo Quel colpo è stato Sempre che prendo La scrivania Probabilmente Si è sentita pure La botta del microfono Altri pipistrandi Perché c'ho il controllo Sotto la scrivania E quando devo muovere Con il motion control Qua ci sta anche Un fiorebomba Ragazzi Questo è l'ultimo pezzo Però naturalmente Questa è una grotta E lo spettro Dove sta? Prendi in mano Questo era l'ultimo Ci serve Il mio spettro Questo era Nooo Ci abbiamo Sette l'izzora L'abbiamo fregato Abbiamo risalito La cascata Dov'è lo spettro Qua dentro? Vediamo qua Di fronte No Ma non l'abbiamo Già fatti Lo spettro Perché sennò La cascata Serebbe stata Marcata Come fatta Forse è qua dentro Guarda Vieni qua Lo spettro Dubbino Sal gemma Con tutte queste lanci Ragazzi Vale la pena Distruggerle Dentro Sti cosi Pure perché Con questa lancia Qua non uccidiamo Nessuno Questa Quanto fa di anno? 14 Con un'altra lancia Di zonanio Invece Se ci mettiamo Un pezzo buono Forse Ne vale la pena Abbiamo fatto Un altro errore Dovamo mettere Il teletrasporto Ragazzi Perché Come ci arriviamo Qua? Dobbiamo Dobbiamo Ritornare Alla torre Una cosa che ancora Non so E se Esiste La maschera Dei semini In questo gioco Probabilmente Si Ma chissà Dove sta Ci dobbiamo Rivestire No Non è questo Questo Ma chissà Perché li ordinano Così Cioè Dico io Questo qua È un set Senza set Mettetelo giù Tutto Ok Dove dobbiamo andare Dove dobbiamo andare Di là Abbiamo messo Anche il segnalibro Di ora Abbiamo messo anche il segnalibro di ora Ci arriviamo? Allora Se togliamo la paravela Prendiamo ancora più velocità Se stiamo in velocità E togliamo la paravela Mi sembra che va ancora più veloce Però naturalmente Prendiamo altezza Prendiamo altezza Velocemente Sede clan niga E va bene Entra Pezzo grosso Ottimo risultato Sembra che tu Abbia lasciato le offerte Dinanzi a tutte le statue Me lo hanno comunicato Le mie fonti Hai superato la prova Ora che sei un pezzo grosso Meriti un premio Ti do il permesso Di accedere all'interno Il premio può essere ritirato Solo nel sottosuolo E vedi di essere riconoscente Ah Non fare caso Alle strane rovine luminose Che ci sono laggiù Sono state scoperte da poco Ad ogni modo Complimenti per aver superato la prova Continuiamo a fare del nostro meglio Per il maestro Koga Ok Qui sono due scrigni Rubino Rubino buono Ma ci sarà anche un cosa Per scendere sottosuolo Katana della prontezza 31 Eh 31 è buona E crea anche un'intensa Non la prendiamo però Qui Di nuovo ragazzi Questa è una grotta Prost C'è provato anche stavolta Vero A fare l'ognor Sto pure i fiori bomba Un altro rubino Ci abbiamo ancora un'altra lancia No? Sì sì Queste qua le dobbiamo togliere di mezzo Solo che forse Un pezzo di vetro Non ci sta Ci abbiamo ancora un'altra lancia Da togliere di mezzo Ok Adesso Sacrario Non so se Questo Sacrario È È benedizione di Raul Vediamo Ma mi sembra che Sacrario di Suariwak Qua poi ci sta un'altra lancia Di bomba Facciamoci un giro Qua 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 no Qua no La no Ragazzi Mancano meno di 50 Sacrari Benedizione di Raul L'unica cosa Come mai abbiamo addosso uno scudo gerudo Quello là lo dobbiamo conservare Anzi quasi quasi Vedete che facciamo Perché secondo me Super batteria di scorta La questelle grudo La andiamo a fare Fra un po' di tempo Ci vogliono Minimo Altre tre puntate Ma proprio minimo Si Andiamo a fare solamente quello Ma non andiamo a fare solamente quello Perché Ho altri piani In realtà potremmo andare a fare La questelle grudo Forse dovremmo andare a fare La questelle grudo Volevo fare un altro paio di cose però Facciamo così Abbiamo fatto un inox Nella prossima puntata No Però la puntata successiva Incominceremo La questelle grudo Andiamo a vedere Che cosa ci serve per potenziare Perché oggi non potenziamo Assolutamente nulla Perché il inox Forse ci dà il potenziamento Della Della nostra super Armatura Della furia divina Il cuore non mi ricordo Se ce l'ha dato E' appena venuto in mente Una cosa Vediamo un attimo Qua non c'era pure un inox Una volta Là sta il lago Almeno da queste parti Quello non è un inox Non è un sassonocco Quello Guarda là un inox Sveglio Questa è la prima volta Quello vediamo sveglio Come mai C'è pure la doppia bardatura Ragazzi Come ci vogliono Facciamo così Diamo un fuoco A questa qua A destra Lo diamo Lo diamo nell'occhio Poi Ci serve Un'arma Più forte di questa Questa qua Poi ci serve L'armatura Che casino Abbiamo preso Quello giusto Piana bacca nera Poverino Questo è morto proprio Si è preso pure L'ultimo colpo Con la Quella Quella con la lancia Sarebbe buono Andare un secondo Dente di inox Corno di inox Unghia di inox Alabarda Arco Oh c'ha dato l'arco L'arco è buono Ok La fata dove sta? Sala Vediamo C'è anche un soffione Dai prendiamo un soffione Non vi mettete avanti Tutti e due Come state Che state facendo gli ignori Io già vi sono Tutti e due E come lo colpisco Partite Ok Dobbiamo andare sempre Da quella parte Saremo qua sopra Qua non c'è il semino Però Ci serve un minimo di altezza Per arrivare alla fata Dove sta la fata? Ragazzi vedete Quella Quel coso? Questi qua sono potenti Questi nemici Eh no Dobbiamo fare Ci tocca Allora Per così Ripetiamo anche Quello che ci serve Un clinocefalo Un elettrocefalo Due di questi Un sempre in piedi Questo E questo Ci manca un coso Non lo so Vabbè Ci mettiamo tre Di zonero Ce lo mettiamo noi Dove sta? No Ne abbiamo viste tutti Siete pronti? Secondo me Di fare tutti i guaggi Prepariamoci pure noi Con una di queste Dobbiamo Indossare Questo qua Dove sta? Poi sta sempre in piedi Ricongela Lo congella A sputare Ci ha sputato Pure Turin Bravo Quello è pure fortissimo Ragazzi Perché non Ci ha rotto lo scudo Oh ha perso Un pezzo Chissà come mai Ha perso due pezzi Forse perché Oh questa è Che la vado Non sa Più 25 di attacco E Buttiamo questo Ok Però li ho fatti fuori Li ho fatti fuori Anche abbastanza Velocemente L'abbiamo preso Il corno Di quel L'inzalfrost Quello è buonissimo Guardate questo pezzo qua Artiglio Artiglio Corno di lizzafloss D'argento Questo è uno Dei pezzi Più forti Questo Questa cosa qua È una potenza Ragazzi Li ho fatti fuori Proprio In niente Poi c'è un'altra cosa Questo set qua Lo dovremmo potenziare Però Lo voglio potenziare In una sola puntata Io voglio fare Perché Servono Un sacco Servono Un sacco di roba Vediamo che Riusciamo a potenziare Allora Io direi Quello della furia divina Ma anche ce la facciamo Ci serve Un altro cuore Di inox Già la miseria È quello del freddo Serve Gelatina Ciuccio Rossa Erba del fuoco Non possiamo potenziare Niente Questo qua No Perché serve La roba Dell'inzalfrost Che serve Per un'altra cosa Mentre Il set di lumisena Questo poi Dobbiamo fare In video Questo Dobbiamo fare Il video Per potenziarlo Perché Questi qua Sono i sette migliori Facciamo un video A posto Per potenziarlo Perché è difficile Reperire i materiali Quindi purtroppo Non riusciamo Dobbiamo andare a fare Altri inox Ok E purtroppo Gli inox Più vicini Che ci sono 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 quelli Nella quest Che è quella Quella roba là Ah è una pietra Che è venuta dal cielo E nel cielo Non ci sono inox No Vabbè Vediamo un secondo Facciamo questo Sacrario No Non lo facciamo Questo sacrario Ragazzi Ho cambiato idea Io direi Di fermarci qui E noi ci vediamo Domani In una nuova puntata Del let's play Di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Domani Faremo un po' Di farming Un po' di queste Così sparse Ciao